Il confronto costruttivo è un confronto costruttivo perché quando si mettono intorno a un tavolo i rappresentanti di tutte le sigle sindacali, le autorità, l'assessore al lavoro, gli esponenti degli ordini professionali per riflettere intorno a quelle che sono le problematiche del mondo del lavoro, sicuramente poi usciranno dalle idee dei progetti che potranno in qualche modo essere utili a risolvere i problemi dell'occupazione che attualmente ci sono nella nostra regione ma anche su tutto il territorio nazionale. Quindi sicuramente è un incontro positivo come sono positivi anche gli incontri che sta proponendo l'assessore Aguzzi sempre con la stessa modalità, cioè tavoli di confronto dove si affrontano concretamente le problematiche che ognuno di noi riscontra nelle proprie attività. Grazie a tutti!